e stavo dicendo, sono lobotomizzato perché mi sono alzato alle otto e mezza con una quantità di sangue nell'alcol bassissima e quindi dovete avere un po' di pazienza perché ci saranno dei momenti in cui magari farò un po' di difficoltà ma guarda mi hanno visto streamare in delle condizioni perché capita a volte che fai il concerto e poi il giorno dopo ti svegli, streami fresco come un bocciuolo in una mattina di primavera sì però ieri è stato clamoroso perché ero a suonare in questa enoteca di questo amico francese io sono abbastanza un bevitore però quando ti tira fuori quegli spumanti siciliani rifermentati in bottiglia perdi il conto nel frattempo stai mettendo i dischi sì non ti dico gli ultimi ho fatto benissimo lo show solo che diciamo che poi in metà dell'alcolismo l'ho fatto dopo lo show in realtà ho presente in realtà per me il problema invece è quando il concerto è più show gameboy quindi soundcheck il problema è che vai nel posto alle 5 del pomeriggio fai il soundcheck e poi che robita vuoi una birra? e che no e quindi inizi a bere le birre alle 5 e finisce malissimo fresco come una busta del minestrone congelato è molto bello allora sono molto contento Pablo perché nonostante io questa roba dello streaming la faccio da mille anni è la prima volta che vieni è vero no abbiamo fatto una cosa in radio mi ricordo abbiamo fatto delle cose strane abbiamo fatto una roba in radio su Radio Raim su Radio Raim su Radio Raim bene in realtà abbiamo fatto un milione di cose certo abbiamo fatto abbiamo fatto sì una marea di roba abbiamo fatto una marea di roba però fu uno molto contento perché in realtà secondo me oggi varrebbe sicuramente oggi parliamo senza chiedere permesso ma potremmo parlare in realtà anche di tantissimi libri che ha scritto Pablo qua ho direttamente la pagina bravo la pagina di agenzie ma sono mica l'ultimo dei sono un professionista qua non un professionista e tu hai scritto questo è il sesto che scrivi questo è il sesto libro anche se poi ne ho fatti degli altri per lavoro ma lì è la roba sai tipo il cast writing certo libri brutti brutti per gente non esaltante e poi ho partecipato ad altre collettane come Risorcio Milano o Università della Strada che chiaramente sono libri però non miei certo ci sono anche io magari beh tu hai scritto di recente Lo spettro della droga che è molto bello l'avevamo portato in giro allora tu ti occupi tu fai parte e ti occupi di di controcultura da una vita sei un attivista organizzi organizzi io banalmente il primo lo racconto sempre ma il primo concerto 8 bit che ho fatto io suonando il Game Boy è uno dei concerti organizzati da Pablo eri un concerto in fornace ti ricordi? sì non mi ricordo esattamente mi ricordo che forse era Luckett non era Luckett no 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 era proprio era proprio un concerto c'eravamo io te i Fish and Ship 8 bit a Rottenbit Tony e Cush Cush che bel nome beh sì Cush è sparito poi l'ho ribeccato di recente Cush suonava con il con il Commodore e la Synthcart ma era molto 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 bravo se è possibile più Mick per Pablito no non è possibile perché sono io che ho non lo so cioè probabilmente ha meno gain incorporato ha meno gain incorporato perché però aspetta dovrei oh come mi piace Altered Beast eh eccolo qua si era bloccato allora iniziamo parlando di allora dicevamo Pablo è attivo nella nell'underground Italia milanese e non solo da una vita abbiamo suonato insieme in un sacco decine di volte decine di volte in decine di posti decinaia decinaia abbiamo dormito insieme nei posti più improbabili si può dire vabbè abbiamo dormito sì nei posti peggiori nei fienili nei fienili veramente e abbiamo fatto un sacco di abbiamo fatto ballare un sacco di gente ma oggi siamo qui per parlare con il pablito scrittore che ha scritto questo libro che secondo me che ho finito hai ragione si legge molto rapidamente ma anche perché ha una struttura molto leggera sì 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 e questo libro che trovo molto importante perché in un periodo in cui si è fatto tantissimo parlare a bambera di rave grazie al decreto uno dei primissimi decreti dell'attuale governo ecco questo libro parla di rave con uno con lucidità perché non è una geografia dei rave una dissertazione di fatto nella quale tu sei andato a cercare da un lato la tua esperienza ma dall'altro anche persone che c'erano di chiacchiere dialoghi con le persone che questa storia l'hanno fatto e questo secondo me è molto importante perché la storia se non la raccontiamo sparisce i dettagli se non vengono documentati vanno a sparire e qua si parla bene di rave io ne parlavo di rave l'altra sera con la mia mamma come eravamo al ristorante e ho proprio fatto l'esperimento di parlare di rave con mia mamma perché mia mamma che è una bravissima persona con un cuore grande così dei rave ha assorbito giustamente comprensibilmente la narrativa di studio aperto che erano posti pericolosi dove i ragazzi morivano di droga e le mancava completamente tutta quella che è la base anche solo ideologica che c'è dietro al rave perché tra l'altro devo andare a prendere anche un altro libro aspetta un secondo tu parla intanto ok io parlo intanto dirò cose prive di senso in quanto come dire le ingenti quantità di alcol ingurgitate ieri sera mi impediscono un discorso razionale a scherzo no allora no Fabio ha ragione però si è dimenticato anche di dire una cosa che io in realtà nel frattempo che iniziavo a fare la tecno e a fare il dj mi sono anche laureato in storia e in questo senso cioè diciamo che i miei libri hanno sempre un certo rigore storico nel senso che raccontano cose che ho documentato anche tramite volantini testimonianze incrociate perché se no uno potrebbe inventarsi una fantastoria del rave cioè un qualcosa che non è mai esistito qual è cosa io in realtà non è il primo libro di storia del rave che faccio perché ne ho fatto un altro che si chiamava Rave in Italy Rave in Italy è un libro che è uscito cinque anni fa che era una raccolta di narrazioni che nascevano sotto forma di intervista ma in realtà sono riportate come un discorso diretto fatte da 32 partecipanti alla scena rave degli anni 90 in quel caso il libro si concentrava su quattro città quattro città in cui io avevo dei contatti come dire affidabili quelle quattro città erano Torino Milano Bologna e Roma ed è un libro di fonti di storia orale potremmo dire Rave in Italy perché tutte queste persone che non erano necessariamente dei DJ o musicisti ma c'erano buttafuori buttadentro spacciatori frequentatori baristi basisti logisti e tutto quel che ne consegue raccontavano la loro versione in questo veniva fuori una visione estremamente differenziata e calidoscopica perché da città a città e da persona in persona i valori l'ethos le estetiche già cambiavano molto c'era chi viveva il rave come una specie di stile di vita c'era chi invece lo viveva come una specie di alternanza con con la vita diciamo normale con il mondo reale c'è una specie come Matrix allora questa cosa questo è stato un primo libro all'interno di questo libro c'erano dei flyer quindi c'erano in fondo 32 pagine di volantini che io avevo raccolto grazie all'aiuto di amici che servivano un po' come appendice diciamo questi volantini negli anni sono aumentati perché dopo che io ho pubblicato Revin Italy un sacco di amici e mi dicevano guarda ho trovato nell'armadio questo cosa succedeva che ho trovato nell'armadio questo e avevo una directory con dentro 1500 file di volantini questi dopo un po' di anni un po' di amici mi dicevano perché non ci fai un lavoro perché non ci fai un lavoro ed è venuto fuori senza chiedere permesso che è un libro che in realtà nasce perché un editore di arte aveva mandato in avanscoperta un ragazzo un giovane brillante che ha incontrato me e il mio editore abituale che diceva che figata bisognerebbe fare questo questo e quest'altro al che io mi sono messo a scrivere e a mettere insieme materialmente il libro poi lui è scomparso quindi il mio editore ha detto va bene facciamolo lo facciamo ovvio lo facciamo perché perché queste cose cioè come dire il lavoro c'è è buona e abbiamo deciso di farlo al prezzo di 15 euro nel senso che un libro che metà è di volantini come dire è disponibile a un prezzo come dire tutto sommato abbordabile perché la cultura ha un costo spesso tanto se lo comprano sul sito è direttamente a 14,25 che bomba per la generosità infinita di Marco scusate un secondo Franco Svizzeri grazie per la sub Lucky Game in che senso che no bisbocci di venerdì punto di domanda punto di domanda chiarisciti che non ho capito guardate qua ecco il sito tanto ve lo rilinco sì sito no che no viva le librerie fisiche è vero G.P.Mellons tu ce l'hai la roba di agenzia X G.P.Mellons è un bibliotecario molto molto ah no ma poi c'è questo problema G.P.Mellons è un bibliotecario ok perché allora anche io sono a favore delle librerie però in questo caso c'è diciamo che se magari uno abita nel paesello in provincia di Enna io gli do il sito direttamente della casa editrice perché in questa maniera insomma sono anche tempi un po' difficili la casa editrice le case editrice sono in grossa difficoltà per cui vendere direttamente è meglio per noi che vendere per esempio a altri grossi distributori tipo Amazon Amazon ma no vabbè ma Amazon Amazon su questo canale noi facciamo sempre della pubblicità negativa è come Winsorz i tempi di Winsorz tra l'altro tu Pablo questo l'hai letto assolutamente questo l'avevamo l'estate scorsa avevo intervistato Roberto Grossi che ha fatto uscire per Coconino questo Cassadritta che è un bellissimo secondo me resoconto di una scena che tu citi nel libro che era quella romana sì la scena romana è la scena più coatta d'Italia nel senso che Roma nei primi anni 90 aveva una scena enorme che non aveva non temeva confronti con per esempio quella londinese o quella belga o olandese o aveva una scena enorme di parti semi illegali in quanto che erano di fatto un po' delle spin off delle discoteche ma che piano piano venendo meno questo tipo di scena diciamo semi illegale perché era messa insieme da grandissimi DJ musicisti ma anche da imprenditori un po' curiosi un po' con dei valori diciamo molto morde e fuggi in tasca di soldi e scappa funge da base il crollo di questo sistema diciamo di questo sistema di rave semi illegali apre la strada ai veri rave illegali romani che 30 anni fa hanno cominciato a imperversare nelle periferie dall'altro dove c'era ma proprio ricordati che stai commettendo un reato cioè qua è un tema che esce da senza chiedere permesso che tra l'altro è un titolo ok aspetta domanda molto importante da dove viene lo spiega nel libro ma da dove viene senza chiedere permesso senza chiedere permesso è un titolo che io gli ho dato perché una mia cara amica Cristina Rovini che era un'artista straordinaria fece una ventina di anni fa in occasione di Canapisa che è una street rave antipredizionista che sfortunatamente qualche anno che a causa della giunta leghista ecco un po' malvista non si riesce più a fare però questo stupendo striscione senza chiedere permesso che è la sintesi del discorso rave perché il rave è una festa a base di musica combattiti ripetuti fatti senza chiedere permesso quindi si entra in un posto si entrava parlo del perché il libro parla del frangente 93-2003 si entrava in un posto molto molto isolato e si praticava un rito collettivo simile una specie di rito religioso in qualche maniera perché parliamo di al tempi delle delle esperienze diciamo che riguardavano non una massa di persone come 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 oggi e diciamo che erano delle feste fatte per mutuo beneficio i partecipanti non lo facevano né per guadagnare né per fare i figli erano delle feste auto-organizzate autogestite orizzontali così tanto senza ego che il musicista o la musicista non era sul palco sotto i riflettori era nascosta esatto esatto c'era un atteggiamento anti star totale per cui alcune feste ma mi ricordo anche alcune che facevamo noi ma nel 97 c'era scritto Tecno c'erano i volantini c'era scritto Tecno non stop 24 ore l'indirizzo di un posteggio ma non capivi chi faceva cosa cioè non c'era noi facciamo questo se volete venire è bella lì invece poi dopo le cose chiaramente sono cambiate però insomma questo tipo di libri questo tipo di frangente che mi occupo io è quello degli albori della Tecno illegale in Italia poi che è una storia appunto che ha 30 anni a questo punto e quindi come dire mi occupo nel primo decennio ma non perché sono stronzo nostalgico ma semplicemente perché dopo io a quella scena lì ho partecipato solo marginalmente prima ero più coinvolto a livello estetico ideologico pratico poi dopo dal 2004 diciamo in poi ho lasciato un po' ho preferito battere altre strade perché ritenevo dal mio punto di vista che è come è soggettivo che di aver chiuso un ciclo che poi vabbè si è un po' riaperto appunto tramite i libri perché appunto poi per esempio Once Were Rivers che è il mio primo romanzo l'ho presentato senza chiedere permesso a un rave faccio un esempio questo 6 o 7 anni fa allora guarda tra l'altro secondo me è molto importante dire che è molto bello a parte che c'è Luca Fire che dice mi raccorgo di aver letto un sacco di libri scritti da Publite ed è giusto così ma è molto bello perché il rave al mainstream a chi lo vede a chi scopriva dei rave tramite veramente l'articolo del TG5 non è mai stato non è mai stato presentato quello che era l'aspetto ideologico quello che era l'innesco quello che era un enorme potenziale anche sovversivo poi come giustamente racconti c'era chi si avvicinava al rave semplicemente in cerca di svago e andava benissimo e c'era chi ci vedeva c'era un ragionamento più ideologico ci vedeva un potenziale per il cambiamento tra l'altro io te stiamo parlando di festa permanente e io penso che sia molto bello per perché fa capire che esiste un sostrato ideologico e di ragionamento e che potrebbe essere il vostro potrebbe non essere il vostro ma è un enorme spunto e innanzitutto vi aggiusta un blocchettino di tetris e vi dice ok era così ce l'hanno raccontata cos'ha ma andando a vedere era così poi magari tu puoi essere veramente a favore contrario critica può piacerti può non piacerti però io da persona che organizza eventi e che vuole organizzarne sempre di più trovo molto bello leggere le esperienze anche perché poi tra l'altro tu hai in questo libro un approccio da un lato da un lato storico dove racconti analizzi e contestualizzi citi giustamente Hacking Bay e le Taz le zone temporaneamente autonome dai dai quelle che sono le basi storiche e ideologiche ma poi vai anche appunto a intervistare parlare direttamente con persone che c'erano e che tirano fuori testimonianze e tante sfaccettature perché essendo tu uno storico non dipingi a grandi pennellate perché anzi questa secondo me è proprio cioè il tema dei rave è un tema impossibile da dipingere in maniera grossolana perché ci sono così tante sfumature politiche non politiche c'è di tutto e tra l'altro infatti allora perché ho messo Altered Beasts perché a un certo punto non mi ricordo dove ma hai citato ecco Altered Beasts hai citato anche la questa tribe di Baresi che tra l'altro ho rivisto recentemente la tonna mitica che ne faceva parte che era di fatto uno spin off di un'altra crew che si chiama Latitans e questa crew di Baresi scelse come nome Altered Beasts quindi battiti alterati che vabbè ovviamente come dire è inutile che vi spiego perché si possa fare un nome di di questo di questo di questo tipo allora dottor Felix dice una cosa e secondo me puoi proprio rispondere tu la cosa che non apprezzavo che ovviamente ogni esperienza personale è valida ma la cosa che non apprezzavo di alcuni raid era la loro esclusività se non eri del giro non te ne parlavano e non vi potevi partecipare sì ma perché questo succedeva adesso io non so gli anni a cui tu ti riferisci però all'inizio appunto il discorso è che chi faceva queste feste lo faceva per il mutuo beneficio e si nascondeva si nascondeva tanto perché l'idea era di sfuggire a tutti i sistemi di controllo quindi voleva dire che la festa ah lui dice ecco fin gli anni 90 esattamente si stiamo parlando della stessa epoca sì in effetti non era una forma di snobbismo cioè non è che devi essere bello ricco eccetera eccetera il problema è che è che per evitare guai con la polizia con i giornalisti eccetera eccetera si teneva l'idea era di tenere questo segreto che era una specie di passabilità nel segreto pubblico perché la cosa bisognava farla ma non pubblicizzarla quindi nel momento in cui infatti si è passati da un certo tipo di modalità di feste per cui all'inizio come dicevo gli organizzatori facevano questi volantini che distribuivano o ad altri rave o a concerti tipo punk clandestini o in bar compiacenti o in squat o in compagnia di gente che comunque sapeva tenere il segreto in questi volantini c'era come dire le chiavi per entrare nell'interzona ma neanche le chiavi per entrare nell'interzona c'erano le chiavi per avvicinarti all'interzona perché in realtà non essendoci cellulari e tantomeno internet è una roba di pochi ricercatori universitari o pochissimi addetti ai lavori tu andavi a questo primo appuntamento che era un meeting point si chiamava tecnicamente appunto un luogo d'incontro che spessero a 2-3 km dalla vera parte e poi da lì ci si muoveva la festa questo era un meccanismo di selezione non basato su criteri elitistici snobbistici però effettivamente era difficile arrivare alle feste oppure se non avevi questa informazione se non eri conosciuto rimanevi a piedi che non eri fuori per cui i criteri di accesso erano molto restrittivi ma non perché dovevi essere bello dovevi essere ricco dovevi era un modo per proteggersi ma questa è una cosa che anche nelle feste di omosessuali negli anni 50 era così è chiaro ma non perché facevano delle orge della mucca ma perché per proteggersi queste persone che sapevano di essere stigmatizzate e perseguitate facevano questo tipo di cose se voi pensate a tantissime altre minoranze hanno utilizzato sistemi analoghi per proteggersi per proteggere il loro piccolo segreto e infatti queste prime feste spesso arrivavano pochissime persone magari qualche decina 200 persone io ne ho viste magari con 100 persone e in questo un po' parliamo proprio della prima prima fase diciamo che a Milano la cosa è partita più tardi rispetto a Roma a Roma già a fine 93 c'erano delle feste con migliaia di partecipanti sì esatto è un po' una logica carbonara ma non perché eravamo editisti o stronzi perché in realtà il problema era proprio di evitare che questa cosa finisse sulle pagine dei giornali prima di tutto e che ci fossero problemi per i partecipanti sulla scena di Roma consiglio veramente Cassadritta Cassadritta di Roberto Grossi tra l'altro potete cercarvi una puntata di Cheno Mattino in cui abbiamo parlato io e Roberto ed è un ottimo resoconto su quella che era la scena di Roma sì che è una scena molto molto coatta perché appunto lui parla di questi anni di metà anni 90 di Torcervara eccetera eccetera poi Roma non è mai stata una città industriale perché l'industria non c'era una città già ministeriale amministrativa e fuori c'erano i campi ora nelle fabbriche questa scena si è sviluppata nelle fabbriche nella totale suburbia romana dove non c'era noi non c'erano i mezzi pubblici quindi la gente arrivava in dieci in un'automobile in quattro sul motorino a piedi in autostop ed era e aveva una partecipazione sottoproletaria fortissima quindi c'erano magari i dj che erano più diciamo della piccola borghesia e i partecipanti spesso erano coatti delle periferie che magari avevano valori anche contrastanti perché il quattro romano negli anni 90 a volte era di estrema destra per cui c'era un clash di personaggi e di senso straordinario beh ma io trovo una grande potenza cioè io organizzo degli eventi e ne viene poca di gente di destra o di estrema destra ai miei eventi ma io sono contento se ci viene perché noi facciamo un evento e è per questo che secondo me alcune delle lezioni che si imparano qua e qua possono essere anche un'ispirazione o comunque una categoria mentale da avere nelle feste attuali perché io penso siamo qua ci vogliamo tutti bene stiamo bene insieme non comanda nessuno anche se abbiamo dei valori politici estremamente diversi secondo me la bellezza di questo momento è evidente e potrebbe avere magari un potere anche trasformativo sulle mie idee e sulle tue l'ha avuto perché cosa succedeva in Revin Italy c'è una bellissima intervista al Cichitone a Warbear che racconta di come organizzando queste feste a Roma nella periferia romana in luoghi pasoliniani oltre l'ultima fermata del mezzo pubblico quindi quella difficilissimo arrivare cioè si mischiava appunto c'era un'unità estremamente vario pinta per cui c'era gente che veniva dal punk dell'hardcore ma anche i coatti che erano vestiti da nazi skin appunto che con eppure in questo tipo di contesti come dire l'ego anche grazie diciamo agli impatogeni si dissolveva in una tal maniera che come dire che sabato dopo sabato weekend dopo weekend anche questi gruppi di coatti che avevano un immaginario che vivevano un immaginario di estrema destra perché erano vestiti come in Azin in Germania a un certo punto si mischiavano le altre persone dimmi che non è un potere incredibile e c'è un altro elemento che emerge uso la copertina di Cassadritta perché è molto emblematica ma tu racconti giustissimamente come e questo è un fenomeno geografico un psicogeografico ma anche di evoluzione della società come allora Kim Bey parlava di bolle di sprazzi di utopia che emergono nelle bolle d'aria rimaste nel capitalismo e tu affronti questa cosa da una prospettiva storica nel senso che dici è cambiata la produzione è cambiato il mondo in città come Milano che erano città con moltissime fabbriche c'è stato un passaggio al terziario per il quale all'improvviso fuori Milano c'erano dei luoghi completamente che una volta erano fabbriche magari tessili o magari vai a sapere di che cosa che all'improvviso erano vuote e per un momento si per un momento preciso nel tempo venivano rioccupate da un qualcosa di completamente diverso poi oggi e infatti tu racconti che molto molto spesso questi luoghi i luoghi dei rave oggi non esistono più nel senso che sono stati ringhiottiti da un centro commerciale da un parcheggio da un cinema multisala soprattutto da luoghi di scambio merci da logistica prima organizzati in maniera molto diversa e per cui queste multinazionali la distribuzione questi 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 magazzini di supermercati ecco è diventato questo tipo di roba qua noi facevamo questo io per esempio in quel periodo lì vivevo in zone centrali semicentrali quello che ho capito io è che c'era un'alleanza c'è stata un'alleanza in un certo frangente tra un certo sottoproletariato e proletariato suburbano una certa piccola borghesia che rifiutava i valori canonici e che per cui c'era io mettevo i dischi cominciamo a mettere i dischi altri facevano i fonici avevano accesso agli impianti altri ancora avevano un'idea conoscevano i luoghi quindi provenivano dalla suburbia e da un'alleanza tra queste persone poi c'erano chiaramente i pusher quelli che avevano gli acidi avevano le pasticche che erano già due giri diversi gli acidi erano un po' più hippie le pasticche erano legate al mondo delle discoteche erano più care ed erano alti circuiti però dall'alleanza tra questi soggetti nasceva e dal desiderio di cambiare sia musica sia sulla socialità nasceva il Reville Gale che appunto metteva insieme personaggi di vari perché moltissimi degli ispiratori venivano ai giri autogestioni dei centri sociali ma mica tutti altri sono cresciuti dentro questo ambiente sono dei nativi dei raver nativi hanno sviluppato dei valori diversi originali altri non c'entravano niente volevano solo venire a ballare e non pagare il caro prezzo che veniva chiesto nelle discoteche milanesi ma questo secondo me c'è una potenza enorme perché io lo dico sempre anche la zona warpa punto esclamativo zona warpa per favore anzi zona warpa.it gli eventi che organizziamo di recente io cerco sempre di dire dobbiamo farli gratis o super accessibili 5 euro 5 euro ma se non ce li hai entra lo stesso cioè per me la cosa è 5 euro se ce li hai magari metticene anche 10 se ce li hai così poi arriverà qualcuno che ne potrà mettere zero perché l'entrata sospesa esatto cioè i napoletani sono dei grandi perché hanno inventato quasi tutto ma perché noi non possiamo non è neanche giusto in una società che è così oppressiva pretendere che tutti siano attivisti che tutti abbiano anche solo il tempo da dedicare a quelle cose o anche il tempo di essere esposti a certi pensieri ma è per quello che noi parlavamo andavamo all'università ci spagnavamo il cervello su Akin Bay così però per leggere Akin Bay la teoria dell'immediatismo il terrorismo poetico doveva avere comunque delle basi culturali doveva avere studiato gli altri mettevano in pratica delle cose senza saperlo però avevano l'accesso per esempio alle pasticche che per noi erano parti che erano delle alleanze state delle alleanze molto forti tra persone anche con culture diverse perché il pusher che vuole vendere la panetta di fumo perché ci campa hai capito trova un posto dove un suo mercato per la sua cosa dove va a divertirsi e magari impara anche a non essere cool perché spesso hai capito la tecno scioglie non è il gangster rap il gangster rap è una roba da guerriere io amo che ai nostri eventi possiamo non essere cool appunto è una roba si parla tanto della dittatura del politicamente corretto io dico invece che siamo nella dittatura del cool o del cringe nel senso che se non sei così sei cringe e devi essere cool ma essere cool è uno sforzo è una fatica è un investimento di tempo che non ti dà niente esatto no perché per fare i grossi cioè che poi anche lì anche lì per esempio i coatti tendono a essere cool capite perché se uno è abituato a vivere in una suburbia magari violenta disagiata tende a magari essere più reattivo anche più violento talvolta non voglio dire che mentre chiaramente se uno nasce in un contesto borghese avrà un atteggiamento più morbido perché ha meno difficoltà nella vita ha meno necessità di reagire con l'aggressività perché magari sente meno la pressione dell'ambiente sulla sua pelle però infatti il rave è anche un fenomeno come dire interclassista ma io credo tanto nel potere trasformativo delle feste perché sono hai presente i percorsi vita quelle cose io penso che siano dei percorsi vita della libertà le feste perché a seconda della tua di da dove vieni puoi dover imparare la teoria o la pratica e puoi cioè hanno in una festa organizzata in maniera orizzontale ci sarà la persona alla quale mancano le basi teoriche perché non ha fatto l'università perché non ha studiato perché è così che entrerà in contatto con alcuni pensieri e chi invece magari aveva fatto l'università e aveva quelle basi ideologiche si entrava in contatto con altre persone un modo di fare le cose e tra l'altro a me affascina molto ed è una roba che secondo me anche senza fare anacronismi anche senza reimpossessarsi di esperienze altrui e già passate secondo me ci sono tantissime lezioni da imparare anche perché una cosa che emerge sin dalle prime pagine e che qua noi qua sul Kenobisbo ci mettiamo in discussione tutti i giorni è il fatto che i rave ed è per questo che erano così temuti mettevano in discussione tantissime cose della società mettono mettono ancora in discussione ed è la perché sono la pratica la dimostrazione la proof of concept che il mondo potrebbe funzionare in una maniera diversa noi lo stiamo facendo senza chiedere permesso cioè noi siamo qua questa sera ci stiamo volendo bene non comanda nessuno relativamente tutte sono al sicuro o quantomeno ci si prova ci si prova ma sicuramente più al sicuro di quanto tu sia in metropolitana ecco anche lì sulla sicurezza ecco io mi capita spesso di confrontarmi con persone e devo dire che chiaramente garantire la sicurezza su tutto e tutti non è possibile perché quello mai è una paranoia una paranoia di controllo in deliri di controllo appunto chiaramente chi organizza chi organizza feste ha una responsabilità certo che ha una responsabilità ha una responsabilità perché la libertà è giusta però la libertà implica cioè se tu non vuoi delegare la tua sicurezza delle decisioni sulla tua vita ad altri devi però assumertene perché se no non come dire ma vedi serial kill dice finché non c'è qualcuno che se ne approfitta per fare casino ma vedi può succedere può succedere ma questi eventi cioè io parlo anche in questo caso della zona warpa parlo delle ma difficilmente succede delle robe che organizziamo sono degli esercizi delle palestre di libertà perché la libertà è difficile la libertà è un bene collettivo e capire che la libertà è un bene collettivo cresciuti in un humus che ci dice invece che la libertà è fare il cazzo che vuoi tu è una roba complessa ma io posso dire che ovviamente quando organizzo degli eventi ho sempre otto occhi perché comunque si tiene tutto in occhio tu organizzi anche in contesti io penso quelli che ho visto a Torchiere eccetera eccetera che sono come strutturati che hanno un'esperienza straordinaria vivono in un ambiente di libertà da magari 25 anni da 30 anni quasi Torchiera e chi è cresciuto là dentro perché ci sono alcune persone che hanno avuto a che fare con gente con problemi psichiatrici perché lì dentro ha vissuto anche gente con problemi psichiatrici che entrava e usciva dagli ospedali psichiatrici e che pure viveva là dentro con comunità per esempio di nomadi che pongono le questioni diverse però è una cultura molto differente per esempio una cultura molto maschilista e come fai a coniugare rispetto per una cultura così diversa con i tuoi valori che comunque non capisci neanche la lingua che parlano con appunto tantissimi stranieri magari molto disagiati perché loro tu scegli giustamente di fare gli eventi in posti come Torchiera come Cascina Torchiera senza acqua che sono dei fratelli tra l'altro 9 giugno zona Warpa la prima tappa della zona Warpa non a caso è in Cascina occupata Torchiera senza acqua certo vedo che i ragazzi i miei partecipanti dicono certo che qualcuno l'evento funziona finché la maggior parte delle persone che viene fa parte di una community è vero ragazzi il problema è proprio questo come la democrazia la democrazia diretta funziona se la gente partecipa nel momento se tutti discutono dicono la loro e arrivano a come dire a mettere in discussione se stessi i problemi che vanno affrontando nel momento in cui si delega qualcun altro al partito politico alla faccia di cazzo che bisogna votare ogni 5 anni che poi a me intanto capita di votare non è che però mi sento magari però voglio dire però non è lì la questione non è la questione però non mi fido molto di queste persone ma anche lì una roba interessante sulla sicurezza è che noi organizziamo un evento e non possiamo garantirti ma come non ti posso garantire che tu adesso esci e non trovi qualcuno che ti tira due sberle in faccia non possiamo garantire la sicurezza completa perché comunque ci sono il mondo reale è pieno di problematiche ed è pieno di cose che possono succedere la cosa che a me rende tranquillo quando sono in quei contesti è che so che la libertà è un valore condiviso è un bene condiviso e che se succede qualcosa non sei da solo Certo Serial Kill sta raccontando una roba terrificante che non conoscevo io non frequento le fiere del cosplay e a questo punto ne sono contento lui dice io guardo le fiere del cosplay e la gente che viene a tirare i croccantini per cani alle tizie merda ma che davvero madonna ma è una roba terrificante ci vuole un po' d'educazione alla vecchia un paio di schiaffoni non si può neanche più fare però se tu vieni a un nostro evento e tiri un croccantino per cani a una tipa ma secondo me è un paio di centroni un paio di centroni ma te li tiro io in prima persona ma poi ti magari non le botte perché è anche sbagliato è proprio di dire guarda amico non va bene ti ridiamo pure i soldi se li hai dati vai da un'altra parte vai a tirarli da un'altra parte così capisci nel momento in cui sei un'idea trattato come un idiota quale sei perché lì la questione perché è inutile picchiarla alla gente non ha ammazzato nessuno quello dopo tutto però dici guarda a me è capitato a volte gente che mancava di rispetto dicevamo ah è così no guarda adesso vai alla cassa ti riprendi i soldi te ne vai da un'altra parte e la prossima volta se vuoi tornare riparti ripartiamo da zero ma è una cosa che capita spesso nelle occupazioni beh sono azzurro comunque ci sono delle persone che possono sbagliare io ma chiaro ma figuriamoci assolutamente però infatti infatti la questione il costo della libertà qual è tu per spiegare a uno che ha sbagliato perdi del tempo ci devi investire del tempo per dire no guarda amico hai sbagliato perché questa roba qua per noi è intollerabile perché bla 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 e c'è uno che per mezz'ora deve stare a discutere con uno che magari non è sempre lucido con uno che magari non ha voglia di discutere ma voglia di fare una rissa e allora rispondo a serial kill perché dice deve esserci comunque una forma di controllo ma c'è una differenza è distribuito esattamente tra un controllo verticale che sono i buttafuori che vengono ti menano esatto e brandiscono di fatto un potere e ogni potere è una pistola e quindi può succedere che succeda magari qualcosa di brutto con un buttafuori quella forma di controllo è orizzontale nel senso che se la tua la libertà di Pablo è la mia libertà e quella tua è quella di Cucco è quella di Luca Fire se io vedo e se tutti ragioniamo così e queste robe queste culture si affermano ogni festa è una palestra di questo concetto a quel punto i problemi si risolvono in maniera diversa non serve un controllo verticale c'è un controllo orizzontale vuol dire che non succede mai niente assolutamente no è impossibile se frequentate un qualunque collettivo di un qualunque spazio quasi a ogni riunione del collettivo c'è qualcuno che chiede scusa per qualcosa e ci sta ci sta e non si cioè libertà vuol dire anche accettare la possibilità che qualcuno sbagli e è un secondo me è un processo di apprendimento collettivo la libertà perché siamo è un percorso che è sempre aperto siamo una società molto poco libera e io credo moltissimo nel potere delle feste perché credo che siano degli esercizi delle palestre di libertà comunque nel 68 i marxisti dicono il potere deve essere operaio pensando che gli operai avrebbero governato meglio gli anarchici dicono il potere deve essere abolito io penso che il potere deve essere distribuito cioè nel senso se ognuno non delega ma gestisce la propria vita in teoria e decide con cognizione avendo degli strumenti e il tempo la società potrebbe essere un posto migliore ovvio che ci sono dei problemi cioè in una società in cui si lavora spesso tantissimo è molto difficile accedere a una dimensione di democrazia diretta per cui fare il politico è diventato un lavoro come fare l'idraulico però lì guadagni facendo il politico come dice a Sara Meloni oh perché sono da garbatella però piglia 16 mila euro al mese se ne va l'affanculo per cui fa tanto la popolana lei e gente come lei insomma guadagnano dieci volte quello che guadagnano le persone le persone normali perché sono degli specialisti della democrazia cioè gente che ti toglie la libertà che cazzo è incredibile come ma infatti qua si parla di allora ultimamente c'è stata proprio dal governo Meloni un decreto estremamente repressivo sul fronte dei rave ma un altro tema che tu affronti già anche questo già nelle prime pagine è come appunto il rave immaginasse una società la possibilità di vivere senza che le nostre vite fossero monopolizzate dal lavoro incentrate sul lavoro ci sono delle possibilità diverse e la roba bella che emerge non quella roba da ricchi figli di papà che dicono ah sì se ci credi abbastanza non lavorerai mai un giorno nella tua vita così erano veramente delle dimostrazioni che anche senza un motivo di profitto dietro noi possiamo mettere in piedi una festa un solo system intrattenimento ed è una roba che io cerco di mettere in pratica in tutte le cose che organizziamo certo ti devi tenere presente che molte di queste persone però avevano la metà degli anni che abbiamo vietti adesso tu adesso hai fatto i 40 40 secchi e i 49 qua stiamo parlando di persone che di anni ne avevano magari 20 25 30 alcuni erano minorenni mi ricordo le prime scene qua i più grandi ne avevano 30 35 la betti era un po' più grande di noi la betti che sta in cielo voglio ricordare che è stata una nostra maestra di etica e di appunto anche lei ci ha insegnato per esempio come trattare con la polizia quando arrivava la polizia perché il modo di trattare con gli sbirri è cambiato perché di solito con gli sbirri o li elude tendenzialmente il discorso è di eluderli piuttosto che di cercare uno sconto di depistarli ok e poi comunque di andargli sotto col sorriso cioè di offrire il caffè di cercare di fargli le grandi supercazzole perché comunque di picchiarci di picchiarci con la polizia non ci interessava principalmente perché credo che ricercassimo un tipo di socialità basata sul piacere sulla possibilità di accedere appunto a degli spazi normalmente inaccessibili quindi queste aree dismesse e di poter utilizzare in patogeni allucinogeni all'interno di questi contesti hai detto la parola piacere e desiderio no non l'hai detto però comunque piacere e desiderio e e questo è un pensiero che riecheggia in molti pensatori e che appunto tu alcuni concetti li puoi assorbire leggendo della filosofia oppure una festa può essere un corso accelerato che ti passa lo stesso concetto ma per me è importante che passi il messaggio che non è impossibile immaginare una società dove al primo posto mettiamo il piacere sembra un'assurdità ma non lo è sembra irragionevole non lo è e io a chi ci dice che siamo irragionevoli mi rivendico il diritto di essere irragionevole anche perché un sacco di robe non vogliono dire un cazzo e non hanno senso quindi allora permettimi anche di essere irragionevole tu chiedi nella mano invisibile del capitalismo io credo nella festa ma poi c'è gente che crede in sistemi teologici metafisici che pensa che ci ha creato chissà quale divinità chi pensa che la gerarchia debba essere plasmata in una gerarchia sociale debba essere di un certo tipo che debba stare in pieno in quella maniera che si rifà dei valori che ne so la tradizione i tempi antichi le sacre scritture ecco noi questa cosa qua francamente non ci ho mai creduto credo che l'ottica della mia generazione sia stata intanto un forte pragmatismo vogliamo fare una cosa la facciamo poi il discorso del piacere e poi il discorso che implicitamente comunque questo tipo di pratiche quindi invadere uno spazio farci una festa non pagare la CIA non avere butta fuori non imporre un certo tipo di stile lasciare che tutti all'interno potessero fare quello che volevano vuoi fare un graffito fallo ovvio che se lo fai in una stanza dove si balla che intossichi tutti qualcuno ti diceva cazzo no magari non fallo qua ma vedi questo è successo una roba molto bella all'evento di avvicinamento della zona UARPA che abbiamo fatto in Torchiera e c'erano dei ragazzi molto giovani parte di game designer che stanno studiando che fanno videogiochi che non erano mai venuti in uno spazio occupato in uno spazio autogestito diciamo più o meno in questo contesto e erano arrivati e avevano chiesto a chi bisogna chiedere per avere un tavolo e gli ho detto guarda a nessuno nel senso ragazzi posso perdere questo no no ma c'erano già i tavoli la regola è che tu qua non devi dare fastidio alle altre persone se qualcuno ti dice che sta dando fastidio chiedigli cosa puoi fare per evitarlo e se non dai fastidio a nessuno tu qua puoi fare tutto e sono dei concetti così basilari ma misconosciuti misconosciuti e sono e viverli secondo me è molto potente e organizzare cioè secondo me ti cambia la mentalità e organizzare gli eventi e luoghi situazioni con determinati dettagli perché io penso che la cucina è fatta di un sacco di dettagli invisibili cioè tu nel piatto di spaghetti finito convergono dei dettagli invisibili che spariscono come la temperatura ai cui hai cotto i pomodori quanto sei stato dietro alla fiamma che pomodori hai scelto come li hai presi io penso che i dettagli invisibili trapelino poi in maniera quasi quasi subconscia e fare le cose per esempio un dettaglio il camper della zona warpa non l'abbiamo comprato l'abbiamo barattato e questa cosa mi dà una gioia incredibile però hai dovuto fare il passaggio di proprietà lo stato ti ha chiesto le 180 allora questo l'ha gestito Ricco credo non so conoscendo Ricco secondo me l'ha fatto proprio nel modo all'epoca più criminal siccome non c'erano tutti questi sistemi di controllo la gente faceva l'assicurazione in fase allora compravi o chissà come ti impossessavi in un camion in un'altra parte poi con la stampanta laser facevano finta assicurazione tutto finto perché c'è gente che ecco questo è un po' ma c'è una roba molto carina che ho letto prima Luca Fire dice io in molti aspetti sono in disaccordo con Pablito però questo è il motivo per il quale lo compro e lo leggo sempre anche perché mi dà spunti di vista altri proprio perché parte da valori diversi dai miei secondo me non esistono valori giusti esistono scambi di valori esistono infatti sì perché l'idea che esista giusto o non sbagliato è già un'idea è un qualcosa di idealistico appunto come se l'idea stessero in cielo si parla di nichilismo morale in questo senso nel senso il nichilismo morale è tecnicamente impossibile definire cosa è giusto o sbagliato anche io sono contento che lui che Luca Fire non sia in disaccordo come e perché chiaramente io imparo se lui se lui mi pone le questioni negative io mi pongo dei problemi e quindi il mio cervello lavora per delle soluzioni se fossimo d'accordo intanto sarebbe noiosissimo e poi in ogni caso non imparerei un cazzo ma non solo c'è anche questo secondo me è allora si grida una delle parole più una delle locuzioni più odiose e abusate di questi ultimi anni è il pensiero unico lo spauracchio il babau delle destre è questo pensiero unico che se non la pensi in questo modo allora sei fuori e io dico sempre guardate che voi quando ve la prendete con il pensiero unico ve la state prendendo con gli algoritmi di Instagram che trasformano quelli che sono senza dubbio dei sentimenti collettivi con delle basi molto concrete perché per me non è pensiero unico dirti che i diritti delle persone trans sono diritti umani questo per me è un valore è un valore così ma ma di questa porcheria che è successa a Milano ma cristi dio e dopo il giorno dopo di nuovo si ecco per esempio per esempio ieri c'era una ragazza che lavora per una famosa testata online che fa i video che intervistava la gente dicendo voi la conoscete perché questa trans che è stata picchiata da ripetutamente da dei poliziotti che sicuramente che sicuramente sbroccava di testa però è una che ha che abita vicino a casa nostra a casa mia nel mio quartiere noi la conosciamo e nella nostra zona la polizia interviene in maniera molto più morbida perché essendoci molti stranieri non possono intervenire in una maniera così dura e essendoci anche in molte trans non possono fare questo tipo perché sennò avrebbe fuori una sommossa gli spaccherebbero le auto eccetera invece nel momento in cui la stessa cosa si è verificata in centro città lì sono intervenuti con i manganelli con molta durezza nei confronti di questa persona che è una disagiata psichica ovviamente specifichiamo non per il fatto che è una persona trans per altri motivi se no sembra perché la questione di Livorno io non l'ho seguita nel dettaglio a Livorno la polizia la polizia non so come si muove so che ai tempi io ci stavo a Livorno per esempio rispetto al piccolo spaccio erano abbastanza tranquilli cioè ho visto rompere le palle nel senso però so anche che come dire a Livorno alle sughere è morto Marcello Lonzi ecco che è una che è una specie di che è un omicidio di stato ecco cioè quindi quindi come dire ma c'è anche un discorso che a me per chiudere e perché se no andiamo completamente fuori tema e così ma la cosa che mi ha fatto rabbrividire ieri su quel pestaggio è gente che ha detto eh sì però aveva fatto questo o aveva fatto quest'altro zio io non esiste cosa che io Pablo tu possa fare per meritare questo tipo di trattamento anche davanti a cose gravissime altrimenti è barbarie ehm non dubito che esistano delle cose problematiche ma si affrontano in un altro modo esatto la violenza dall'altro dall'alto è non è la soluzione e noi io penso che collettivamente dobbiamo remare dall'altra parte in tutto questo volevo dire che il pensiero unico è uno spauracchio assurdo ma ve la state prendendo con Instagram ve la state prendendo con una realtà algoritmica per la quale effettivamente nascono delle sassaiole mediatiche che non sono la via anche la sassaiola mediatica di adesso facciamo perdere lavoro a questa persona non mi piace io non voglio lanciare un sasso a questa persona io voglio lanciarle un valore un qualcosa Luca Fai dice un'altra cosa interessante dice che spesso nei contesti di divertimento è l'unico che va in bagno a pisciare gli altri chiaramente sono a stendere botte probabilmente di cocaina ecco nei contesti di divertimento dilaga la coca cioè che siano sfortunatamente questo succede anche nel contesto rave perché nel momento in cui appunto è saltato quel meccanismo di selezione diciamo non elitario non snobbistico che vi dicevo prima appunto basato sul flyer eccetera eccetera e le informazioni di alcune feste delle feste di quasi tutte le feste sono finite sui media mainstream ecco è successo che appunto arrivassero i discotecari in discoteca la cocaina è sempre stata la sostanza principale tu infatti parli di sostanze in patogene e altre sostanze che non a caso che sono abbastanza contrarie anzi a quello che era lo spirito della festa il fatto cos'è che in un primo tempo cioè l'ecstasy può creare un'addiction mentale ma certamente non fisica gli acidi se ne prendevi mezzo di quelli dei tempi non te ne prendevi neanche l'altra metà e quindi cosa succedeva che non c'era un mercato della droga almeno all'inizio sì magari qualcuno che portava qualcosina per sé per gli amici ma invece ecco per esempio la questione della cocaina la cocaina è una sostanza che comunque se comincia a usarla appunto tanto la usi tutta la settimana diventa come il caffè e qua vedo nelle piazze milanesi noi ai tempi ci facciamo che ne so le canne la canna la mattina quella del pomeriggio così quella usano la stessa maniera è chiaro che la cocaina è una sostanza intanto che è neurotossica che crea addiction che crea parecchi problemi che ti fa dei buchi così nel cervello che se uno a un compleanno una volta all'anno si fa la righettina non è che gli sta a fare la paranoia però l'utilizzo quotidiano di bamba è una merda dal mio punto di vista beh io su questo in realtà non ne parliamo oggi perché in realtà secondo me dobbiamo farne un'altra di chiacchierata così quando hai voglia con calma però consiglio anche ti sei mai sentito sai di essere stato controllato o schedato è per me la domanda sì credo di sì io sono stato anche arrestato alle feste un paio di volte per fortuna poi mi hanno assolto e schedato sicuramente cioè ci fermavano tantissimo infatti uno dei motivi per cui ho smesso nel 2003-2004 è che avevo accumulato una serie di problemi di problemi legali più a distanza intendeva sì allora a distanza qual è il discorso che a distanza nel senso tu dici micro spirale e così di quello non ho la prova ti posso dire che ho subito la repressione negli arresti ho dovuto sostenere dei processi poi perché comunque nel senso sento un conocchio e dice allora no io non sento nessuno io non sono uno paranoico per nulla cioè nel senso poi vengo dalla politica quindi io ero molto più controllato da ragazzino quando facevo parte del circuito dei centri sociali che non durante i rave perché i rave dopo tutto comparivano e scomparivano il centro sociale è un posto fisso nei centri sociali abbiamo trovato poliziotti infiltrati confidenti e quant'altro perché la polizia controllava questi ambienti nel rave all'inizio non riuscivano a entrare non riuscivano a controllare successivamente però diciamo che quando ho cominciato a prendere le targhe della macchina sistematicamente e a fermare le persone e così ecco diciamo che poi dopo un po' ho accumulato una serie di di pendenze sì di pendenze ho dovuto risolverle con avvocati e cose così non è stato piacevole perché francamente io i rave io faccio il dj vivo anche di questo tra le altre mille cose faccio due o tre serate al mese che per fortuna certamente non guadagno sono più dei rimborsi che delle vivo bene perché mi trattano bene ecco però io già facevo questo lavoro prima ecco però io ai rave praticamente ci dividevamo magari qualche soldo alla fine ma veramente pochi soldi e quando mi sono reso conto che con quei pochi soldi a malapena pagavo per per la depressione eccetera eccetera e che poi soprattutto grazie al fatto che la diffusione di internet dei cellulari arrivava gente che invece aveva una mentalità di business cioè noi non volevamo fare il business però arrivava gente che vendeva droga faceva il supermarket ma che manco erano i nostri giri manco amici o gentili ma erano proprio dei cafoni dei mafiosi di merda c'è gente appunto che portava la bamba con i macchinoni neri ecco io lì ho detto no porca puttana io con questa cosa cioè dal mio punto di vista in certi frangenti mi sembrava di essere io organizzatore fuori posto diciamo ma chi è sta gente qua di merda solo che erano brutti ragazzi cioè noi non siamo gente violenta non siamo gangster non eravamo nel mio giro anche se un po' a volte avevamo degli atteggiamenti del cazzo però aveva a che fare con queste bande di personaggi che non fanno parte della festa non fanno parte dell'ambiente e vengono a vendere sostanze che oltretutto fanno male tutte le droghe tutte le droghe fanno male cioè io bevo fumo faccio di tutto capito però il punto è e lo so capito capisco anche che c'è altre droghe non fumo le sigarette perché mi fanno schifo e ho smesso perché è così però giusto l'unico vizio che non ho forse sono le sigarette per tutto il resto non posso farla morare a nessuno però come dire quelle sostanze lì rendono la gente dei tossici eroina cocaina cioè non sono droghe da parti sono droghe da tossici capito che poi se le usi una volta ogni tanto io consiglio di non usarle mentre sull'ecstasi o la chetamina difficilmente ho visto gente che c'è andata sotto e succede talvolta succede perché sarebbe un'indiozia dire il contrario però diciamo che non vedo le comunità piene di chetaminari o impasticcati vedi vedo vedo le comunità piene di ragazzi che si fanno l'eroina di bassissima qualità vedo le carceri piene di stranieri trovati con piccole quantità vedo le comunità piene di gente che inizia a pipare non finisce più ormai non è neanche più una roba da ricchi ecco perché la cocaina ormai è come dire dimezzata di prezzo non è neanche più cocaina io qua su questo consiglio veramente i tuoi lavori sulle come si chiama lo spettro della droga che è un altro libro molto bello molto interessante in cui tu affronti il tema con una lucidità tua ecco ecco che dice allora Enrico Trivella dice prendiamo la chetamina che oggi è stata ignorantemente allora l'utilizzo che si faceva all'inizio della chetamina che è stata una cosa grossa ok all'inizio la chetamina mi hanno portato alle tribe cosa sono le tribe aspetta aspetta passo indietro perché sennò dei gruppi di traveller quindi di gente che aveva caricato i sound system sui camion e che facevano feste itineranti che passavano di città in città e parliamo di diciamo 95 in poi e all'inizio la chetamina non te la davano volentieri anche se ce l'avevano perché loro sapevano che avrebbe ucciso la festa e te lo dicevano gli dicevano guarda te la dai ma falla dopo non farla se sei ubriaco bla 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 e infatti noi avevamo imparato da loro a usarla a casa perché magari la festa si mangiava mezza pasticca il pezzettino di trip poi a casa siccome smascellavi un po' quindi ti mangiavi i denti a casa ti facevi la riga di chetamina così ti facevi un bel viaggio psichedelico e se non un anestetico ti smollava la 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 mascella e dormivi un po' più tranquillamente col tuo viaggio ono chimico oggi abbiamo fatto secondo me oggi vinciamo la palma dei discorsi più più anti più anti commerciali su twitch ma ci sta perché anche di queste cose che sono un tabù cioè i tabù fanno male i tabù fanno male in tutti i sensi i tabù rendono io non non faccio faccio un uso estremamente no lui hai smesso anche di fumare le sigarette si tu ti fai qualche canna bevi tu non so ma le canne se le fanno tutti dai ragazzi si no sto scherzando sto scherzando no principalmente quando siamo con tutti bevevamo da fare schifo esattamente ma poi ci sarebbero Pablo una quantità di discorsi per i quali io vi rimando al libro perché c'è una spartiacque enorme che è il G8 ci sono il G8 è stato una spartiacque culturale a livello di movimento incredibile e qua se ne affronta se ne affronta un aspetto potremmo parlare del di come tu oltre a scrivere libri sei se voi venite alle feste di Milano o a feste in tutta Italia potrebbe capitarvi di trovare Pablo con il suo tavolino e con i suoi libri tu sei uno spacciatore di libri assolutamente la cosa incredibile che mi dico ma come fai a vendere i libri ai rave che ci sono i ragazzini impastriccati io gli dico cazzo ma sai che io so proprio bene con quei ragazzini impastriccati a parte quando vogliono prendere un libro per farsi una raglia sopra che dicono no ragazzi aspetta te ne do almeno uno usato che non è un problema che non è un problema ti do anche un cd quello che vuoi figurati però poi mi trovo molto bene con questi ragazzi che perché alcuni chiaramente parliamo di gente di tutti i contesti sociali a me i suburbani sono quelli che fanno più tenerezza perché spesso sono ragazzi con pochi mezzi che magari non hanno neanche un approccio alla lettura perché non sono andati all'università a casa loro non leggono i libri però vedono questi libri e loro immediatamente capiscono che sì sono libri ma sono libri diversi dagli altri intanto perché appunto perché per il prezzo e poi perché io gli dico ma voi guarda io sono 10 anni dico ma prendilo questo libro prendilo perché io preferisco che tu lo leggi non guadagnare un cazzo o giusto i soldi di una birra piuttosto che tu non lo legga ma questo è e qua torniamo secondo me all'enorme potere trasformativo delle feste perché le feste sono da un lato degli esercizi ma dall'altro dei cavalli di troia io racconto spesso che la mia coscienza politica o meglio la mia alcuni dei miei valori così è nata per caso perché io ero un ragazzino a Milano ero in fissa con il punk volevo sentire i concerti punk i concerti punk erano negli spazi occupati e anche se io a 15 16 anni che cazzo ne sapevo non sapevo niente tra l'altro nella nostra scuola che sul pensiero libertario non insegna niente ma neanche sul pensiero antagonista non insegna niente e io andando a vedere i concerti punk ska così vedevo i manifesti sui muri vedevo se tu vai in un qualunque centro sociale qualunque spazio occupato autogestito trovi sui muri anni di battaglie trovi a parte che trovi delle opere trovi delle cose ma trovi adesivi flyer volantini trovi una contro storia cose informative io vi quando verrete al Forte Prenestino il 15 di giugno alla zona Warpa io vi faccio vi invito solo a leggere le cose che ci sono nel corridoione iniziale del Forte Prenestino e tu impari impari tantissime tantissime cose Pablo salutiamoci perché dobbiamo allora io e te salutiamo loro io e te ci salutiamo io e te salutiamo loro poi ci beviamo un caffè perché io ragazzi scusate allora aspetto cos'è che dice la presenza anzi lo saluto tanto Domenico Petrosino chitarrista dei CCM poi dei not moving e adesso anche Donald Matt xp cioè lui ha suonato con i Clash con Iggy Pop con Nick Cave e con Johnny Thunder di cosa cazzo stiamo parlando è il libro che abbiamo scritto quello di cui parla il nostro amico Pisano è un libro che abbiamo fatto al telefono di lui ma con il telefono io sono molto low tech con il Nokia non con lo smartphone lui mi chiamavo con un telefono Nokia del cazzo io rispondevo con un altro Nokia del cazzo ci mettevo di fianco un registratore al viva voce e poi da lì ho riscritto tutto e da lì è venuto fuori il libro e il libro è dalla parte del torto che parla appunto della coda della scena hippie della prima scena punk arcore italiana e la scena rock alternativa italiana quella veramente alternativa cioè che non fermavano contratti ha rifiutato valigie di soldi e poi anche la scena elettronica Enrico Trivello dice c'ho dalla Spagna un abbraccio ciao Enrico ciao CPU Cake ci vediamo se sei a Barcellona ci vediamo i primi di Enrico Trivella ci vediamo i primi di luglio che sarò lì tra l'altro cogliamo l'occasione per parlare di un po' di date allora innanzitutto oggi pomeriggio qua a Milano alle officine Zandraglie che sono in via Atene al numero 3 dalle 4 in avanti siamo lì con ci suonerò io stasera suonerà Rico ah ma lì dalla Edit lì dalla Edit esatto allora oggi faccio la giornata insieme ecco perché siamo lì dalle 16 e alle 16 facciamo distro o meglio autoproduzioni che facciamo per finanziare la zona Warpa e poi suoniamo e tutto domani io sarò ad Arezzo al retrovone di KS Gaming Life ma vi invito a documentarvi sulla zona Warpa che sta arrivando si avvicina la zona Warpa in quest'ottica alla luce dei discorsi che abbiamo fatto oggi vi invito a leggere perché zona Warpa c'è un manifesto e c'è soprattutto un codice di condotta che riflette non sono regole io odio la parola regole non sono regole ma sono dei valori sono dei valori che noi abbiamo nel senso non così il bello della diretta il bello della diretta questo qua è il signor Quinterio che è l'unica persona un signore che ha 93 anni ormai che è l'unica persona a cui sistemo il computer che è grande neanche a mio padre lo sistemo perché poi mio padre mi fa girare il cazzo appunto e le date della zona Warpa saranno Milano Cascina Occupata Turchiera il 9 giugno che è venerdì il sabato siamo a Genova al Buridda il la domenica siamo a Firenze al Next Emerson stupendo precisazione la data del Next Emerson essendo la domenica è una data light nel senso che non ci sarà la parte di concerto finale che si fumo al Cibirino si fumo al Cibirino poi saremo a Siena alla Corte dei Miracoli stupendo poi l'unica tappa non occupata è all'Ottobitter Club di Montelupo Fiorentino ma perché è uno spazio alleato assolutamente che rispecchia i nostri valori poi siamo a Roma al Forte Prenestino il 15 che è un giovedì e poi il 18 siamo a Napoli all'Exo PG potevamo farlo il 17 ma sarebbe stato un piccolo errore strategico perché il 17 a Napoli suonano i 99 posse e io onestamente di andare a Napoli a fare concorrenza è diventata per poste uno non c'è anche perché magari ci andiamo noi appunto senza magari ci vediamo lì ci vediamo lì perché è così certo quindi regà Pablito Eldrito andate sul vi lascio di nuovo il link ad Agenzia X a tutto il sito in realtà ci sono è una bella realtà io leggo tra l'altro ecco io sto finendo di leggere questo di Akin Bey la venda di Zarathustra mi sta piacendo moltissimo un libro controverso e complicato molto bello la prefazione di Filopat è stupenda ma poi ci sarebbe da parlare una volta dovremmo invitare anche Filopat ma infatti te l'ho già detto guarda che ti inviterà perché è solo che Filopat è incasinato cioè è incasinato che sta facendo 1700 cose e per quello che è importante comprare libri o in libreria che ha ragione il nostro amico bibliotecario o dal sito di Agenzia X evitate per piacere Amazos o altri di questi dealer che fanno fallire le librerie e francamente non fanno neanche un grande servizio e scuotano la cultura scuotano la cultura la vanno a danneggiare comunque ecco vi consiglio tantissimo il catalogo di Agenzia X vi consiglio oggi di venire se siete a Milano alle Zandraglie e grazie per averci ascoltato e aggiungo anche grazie per essere una bella chat anche quando parliamo di temi che non sono facili come altri nel senso è più facile parlare di Zelda parlare di cose che hanno a che fare comunque con l'illegalità sono sempre dei discorsi complicati e grazie per essere un pubblico bello su questo quindi oggi invece che fare un ride vi lascio con un pezzo secondo me chiudiamo con un pezzo con Dave the drummer One Night in Acne che è un pezzo che parla Stay Up Forever che parla di un giovane uomo che visita Londra per la prima volta e il bello è che questo lo possiamo mettere sicuri che non ci arrivi uno strike ve lo faccio partire dall'inizio però è certo che dall'inizio è certo che dall'inizio perché è così e noi vi salutiamo amici e amiche grazie Kenorbit Pablito il Drito Agenzia X senza chiedere permesso e anche volendo da Coconino Roberto Grossi Cassadrita ed eccola qua non avevo messo il volume non avevo messo il volume ed è molto grave quindi la facciamo ripartire da capo perché non va bene non avevo messo il volume non avevo messo il volume non avevo messo il volume nquezz 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 nquezz